Mara Bonamano, arriva l'astorico esordio in casa al Palasport contro il Bressanone, sei emozionata per questa partita? Sicuramente sarà una delle giornate più importanti della tua vita sportiva. Sì, sono molto emozionata, come d'altronde lo ero per Ferrara, ma questa volta in casa diciamo ancora di più perché ci teniamo ancora di più a far bella figura, soprattutto a vincere davanti al pubblico di Civitavecchia e siamo sicuri che la gente ci aiuterà molto a fare una bella prestazione. È già uno scontro salvezza questo di domani contro il Bressanone, anche se mancano tantissimo, 25 partite al termine del campionato? Io direi proprio di sì, nel senso che si sono sicuramente rafforzate, ma d'altronde ci siamo rafforzate anche noi. Il livello è quello e ci abbiamo già vinto, quindi loro partono un pochino in svantaggio perché psicologicamente quando perdi anche di tanto con una squadra, poi affrontare di nuovo la gara non è semplice, quindi secondo me loro partiranno molto contratte, anche noi emozionate, però diciamo che la prima volta che ci siamo incontrate la partita è andata a noi, quindi questo è un punto al nostro vantaggio. Potrebbe incidere quel grande sabato sera di maggio, qui vincendo proprio contro il Bressanone avete ottenuto la promozione in Serie A? Sì, è appunto quello che stavo dicendo. Secondo me incide, faccio sport e dal punto di vista psicologico queste cose si fanno sentire tantissimo. Noi ci sentiamo cariche, certo il Bressanone è una bellissima squadra quindi la partita va affrontata al 100% senza sottovalutare perché non c'è assolutamente da sottovalutare a nessuna squadra in questo campionato. Sarà un campionato molto difficile rispetto alle attese perché voi avete fatto bene a Ferrara ma anche tutte le altre neopromosse hanno fatto bene. Il campionato rispetto a quelli precedenti è completamente differente. Il discorso è questo, che noi ci giocheremo sì la salvezza probabilmente con le neopromosse, ma non è detto, nel senso che poi nella palla a mano nella palla a mano può succedere di tutto. Noi stavamo per vincere a Ferrara e Salerno stava perdendo con Dossobuono, che è una bellissima squadra, però sicuramente Salerno sulla carta ha le migliori giocatrici che ci sono. Quindi diciamo che non si possono fare dei conti, si deve sempre vincere gli scontri diretti sempre e giocare sempre al massimo. Non è detto che non possiamo vincere anche qualche gara inaspettata. Grazie a tutti.